La sanità abruzzese peggiora e decresce con un deficit importante di oltre 100 milioni di euro che rischia di far tornare la regione al commissariamento. È quanto ha denunciato il PD regionale in conferenza stampa. I provvedimenti sono fermi al 2018, dicono non c'è il piano sanitario né quello operativo dell'Aggiunta Marsilio e non c'è la rete ospedaliera, partorita solo sulla carta. Marsilio per il PD è l'unico presidente di regione che sta facendo propaganda e critica al Super Green Pass. L'unico presidente di regione, cito la ministra Gelmini, che fa parte di un partito che in regione Abruzzo è in maggioranza, l'unico presidente di regione che fa propaganda politica sul Super Green Pass e sulle scelte unitarie del governo è il presidente della regione Abruzzo che evidentemente ancora una volta dimostra di essere innanzitutto un soldato del suo partito e della sua leader Meloni e a tempo perso il presidente di una regione. Siamo all'Aquila, la città capoluogo di regione. Attraverso voi vorrei fare una domanda. È stato pubblicato un sondaggio elettorale che riguarda le prossime elezioni amministrative. Io ho notizia che una delle domande che è stata fatta è stata proprio sulla soddisfazione che i cittadini della città capoluogo di regione hanno sulla Giunta Marsilio. Il dato, la risposta non è stata pubblicata. chiedo ai nostri avversari se effettivamente è stata fatta questa domanda e se hanno il coraggio di pubblicare i risultati che loro stessi hanno testato. Il capogruppo del PD Silvio Palucci fa un focus sui conti nonostante le risorse molte di più a disposizione del centrodestra rispetto alla precedente Giunta di centrosinistra c'è un deficit importante. I presenti hanno ribadito la fatica della Giunta d'Alfonso a ripianare i debiti facendo uscire dal commissariamento Labruzzo. Per il PD c'è anche uno stallo degli atti di programmazione e anche sui lea con Marsilio c'è stata una discesa. Spiegano il 2019 è stato l'unico anno in cui il livello scende dopo dieci anni di crescita e nei numeri per il PD c'è il rischio che il livello dei lea erogati scenderà ancora. 101 milioni di disavanzo nei primi nove mesi del 2021 con un tendenziale a 130 milioni di euro e con risorse trasferite dallo Stato che sono state di 200 milioni di euro e proprio ieri notte il Senato ha votato un ulteriore decreto per dare alle regioni 600 milioni di euro in più per le spese covid. Voglio soltanto rappresentare che nei quattro anni di legislatura precedente di centrosinistra l'aumento del fondo fu in quattro anni di appena 40 milioni con Marsilio in due anni e mezzo più 220 milioni di euro con il decreto di ieri notte. Nonostante questo un enorme deficit di un tendenziale pari a 130 milioni di euro è già accertato per cento nei primi nove mesi. Grazie. 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 Grazie a tutti